Non conosciamo naturalmente personalmente i giocatori, quindi chiediamo antecipandamente Venia, attenzione intanto azione ubriacante, piena di doppi passi, 40 metri di campo e poi arriva anche il tiro in porta, ma che gol che ha segnato il numero 10 Bianchi, ha portato a spasso tutta la retroguardia dell'Aprilia e poi ha partorito un siluro che ha lasciato praticamente di sasso il portiere dell'Aprilia a testa, incredibile davvero, 30 metri di campo, uno scatto folgo Una serie di doppi passi che hanno mandato praticamente in tilt la retroguardia della formazione in casacca verde e arriva il gol del 3 a 1, scatenato Bianchi